Sono veramente felice di essere qui a K-Port, per tantissimi anni che aspettavo questo momento, sognavo di fare questa regata e questo sicuramente è il passaggio della Volvo Gen Race. Abbiamo lavorato tantissimo negli ultimi giorni, stiamo guidando la flotta con poco margine, siamo sempre più attaccati, abbiamo avuto condizioni molto dure. Sono veramente felice di essere qui in testa della regata, nel passaggio probabilmente più bello di tutti quanti questi mesi. Grande motivazione, restano ancora 2.000 miglia davanti per chiudere questa etapa, saranno giornate dure.